ciao ben tornati al nostro canale youtube oggi guardiamo navasana la posizione della nave ci sono vari passi di navasana quindi cerca di avere la cosa più importante cerca di avere la bassa schiena in avanti primo passo puoi stare qui squalle indietro bassa schiena in avanti petto aperto punta dei piedi a terra se riesce a stare qui stinchi i paralleli al pavimento addome forte se puoi stare qui lascia le mani parallele al pavimento dita delle mani unite palmi delle mani si guardano guarda i piedi se possibile magari stendere gambe senza perdere la bassa schema cosce fortissime flesso l'idea anche fortissime spalle indietro apri petto cerca di calmare il respiro almeno cinque respiri qui questa è una bassa cerca di non crollare con la bassa schiena quindi vedo tante persone che stanno qui invece di fare questo magari stai qui mantenendo la bassa schiena in avanti adesso li direi anche attivissime cosce forti meglio stare qui che stare qui quindi guarda dove puoi stare piano 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 cercare stendere gambe e prossimo video prossimo sabato quindi ci vediamo lì ciao ciao